Truffi agli anziani, si finge a poliziotta su 3 e 7 mila euro in monilli d'oro ad una 83enne. L'agente della Polizia di Stato, appartenente alle volanti della squadra mobile della costruzione di Giacusa, sono intervenuti nei giorni scorsi per tre episodi di truffa e danni di anziani. In uno di questi, purtroppo, la vittima, una donna di 83 anni, è caduta nel raggiro teso da un truffatore che fingendo su un appartenente alle forze dell'ordine, avvisava la signora che il figlio era rimasto coinvolto in un incidente stradale e che aveva urgente bisogno di una cospicua somma di denaro per essere curato e che una collega sarebbe passata da casa sua per ritirare il denaro. La donna, preoccupata per le condizioni del figlio, ha consentito alla richiesta e da lì a poco consegnava alla complice del truffatore 400 euro in contante e monilli in oro per un valore di circa 7 mila euro. Altre due tentative di truffa e danni di altrettanti anziani perpetrati con le medesime modalità non sono andate a buon fine per la prontezza delle vittime che, prima di acconsentire la richiesta dei delinquenti, chiamavano il proprio figlio immediatamente dopo la Polizia di Stato. A seguito di questi ultimi episodi, gli uffici investigativi della Polizia di Stato hanno immediatamente avviato scrupolose indagini di Polizia giudiziaria finalizzate alla individuazione dei truffatori. Nonostante la massiccia campagna di informazione portata avanti da tempo dalla questura di Siracusa con la collaborazione dei centri anziani di tutta la provincia, l'odioso crimine delle truffe perpetrate ai danni delle fasce più debole della cittadinanza è sempre attuale e necessita una particolare attenzione sotto il profilo della prevenzione delle informazioni. Pertanto si ricorda a tutti gli utenti di fare la massima attenzione qualora ricevessero la richiesta sospetta di denaro e nel dubbio di telefonare ai numeri di emergenza. La questura di Siracusa invita tutti a seguire le sue pagine social per essere costantemente informati di ogni novità anche in merito alle modalità di truffe vecchie e nuove perpetrate da gruppi di criminali privi di scrupoli.